come stai persone oggi sarà un podcast molto differente di questi che voi assistite io non parlo italiano io ho imparato italiano quando io ero stato giovane ho imparato qualcosa di italiano ho avuto una o due opportunità di parlare italiano in vita ma mi piace sempre chiacchierare in italiano ma qui a Recife è difficile trovare qualcuno che parla italiano oggi io ho avuto il piacere di ricevere in ufficio due italiani i due italiani con storie per raccontare voglio presentare le due amiche scusi principalmente voi italiani che stanno vedendo una persona parlare con difficoltà ma oggi io farò questo desafio a me stesso di fare un podcast in italiano io voglio presentare due amici uno di loro sta ha fatto un libro io voglio parlare sopra questo libro va bene io voglio parlare con vestri e con guerra buonasera da buonasera buonasera sarà un piacere fare questo podcast con voi chiacchierare un po' in italiano sopra cose d'italia sopra cosa dell'alma tante cose che abbiamo da parlare molto bene è un piacere grazie innanzitutto a paolo sia per l'amicizia che da sempre da molti anni che noi ci conosciamo e anche paolo permettemi di dire per la tua discendenza italiana ma innanzitutto anche per la tua grande professionalità come avvocato perché tutti quanti sanno benissimo che se vogliono e questo non è una propaganda perché tu non hai bisogno di questo ma è un riconoscimento alla tua professione specialmente di avvocato legato al mondo del lavoro questo per noi è una cosa molto ma molto interessante la seconda cosa che vorrei dire è che io ho solamente diciamo così aiutato moralmente spiritualmente sia il professor dimitri zen che assieme ad antonio carlos de olivera hanno costruito con la regia in modo particolare del professor tales castro che lui è il direttore nell'ambito dell'università cattolica un istituzione mi permetterei di dire che dopo l'università federale qui del pernambuco e l'università con maggior potenziale scientifico culturale presente e qua e il professor del professor tales castro che appunto è anche docente dell'università cattolica e anche responsabile del gruppo o politeia ed è venuto fuori questo libro molto interessante è un libro che appunto si chiama fascismo in italia e che potete vedere qui in copertina oltretutto c'è stato il contributo da parte sia diciamo così del comites del comitato degli italiani all'estero dove oltretutto la presidente che adriana romano ha aiutato a tradurre parte di questi inediti perché questo è un libro storiografico in modo particolare dell'epoca del fascismo ricordiamoci che in questi giorni è il centenario della famosa marcia su roma dell'allora costituendo partito fascista abbiamo messo dietro anche nella nel retro o di stemma sia di politeia sia del comites e anche della camera di commercio italia brasile per quanto riguarda il mondo dell'impresa e del commercio qui da noi bene questo è un poco o diciamo così un elemento di introduzione di cui paolo ci ha invitato qui questa sera oltretutto ci sta facendo vedere anche tutta una serie di foto di bologna di bologna perché ho messo queste immagini perché è bologna è conosciuta come la città rossa il rossa è un colore che le persone associano al comunismo e la prima domanda è vero questa affermativa bologna è rossa perché è a ideale comunismo se ho già ascoltato parlare sopra questa oggi parliamo sopra fascismo sopra comunismo e qualcuno già ha parlato a me bologna è rossa è rossa perché è comunista c'è qualcuna verità in questa storia ci sono ci sono due verità paolo hai fatto bene a introdurre questa cosa innanzitutto bologna rossa bologna rossa nei suoi palazzi questo è il primo dato se noi andiamo in giro per bologna vediamo che la tinta che viene dato o nei palazzi è questo sottofondo rosso lo vediamo lo possiamo anche vedere qui oltretutto sotto alle due torri piazza di porta ravagnana cioè questa è la prima parte la seconda parte è una parte vera storiografica di tipo sociale di tipo politico perché comunque bologna è sempre stata la città diciamo che storicamente e dal punto di vista politico più rossa d'europa sì questo qui con le sue amministrazioni con dove c'è poi una storia che riguarda anche la stessa regione per dire c'è una città vicino a bologna che si chiama imola dove ha avuto il primo sindaco socialista d'italia allora anche qui bologna ha avuto dopo la liberazione dal nazifascismo il primo sindaco giuseppe dozza e da lì si sono ripetuti negli anni finché siamo arrivati perché bisogna raccontare la storia tutta nel 1992 che purtroppo il cosiddetto centrosinistra perse e fu eletto sindaco giorgio guazzalocca dopo di nuovo la città è tornata diciamo così sotto un governo di centrosinistra si è qui è buono a parlare sopra questo perché i brasiliani vivono molto insieme nel proprio paese non capisce come funziona non conosce molte l'europa l'africa la maggioranza non posso parlare di tutti ma molti brasiliani non conoscono e solo vedono questo proprio corpo suo proprio paese e pensano molte cose e sarà un piacere chiaccare con voi sopra questo assunto perché per esempio il libro qui fascismo italiano primo io sempre ho pensato e tu puoi spiegare bene io sempre ho messo in testa fascismo versus comunismo sempre sempre questa rivalità e una volta ho chiacchierato con un insegnante che ha detto il fascismo era di sinistra perché perché il fascismo aveva un lema tutto in stato nada fuori dell'estato tutto stato penso che è un elemento diciamo così di nazionalismo che lo vediamo anche oggi presente in alcune realtà della stessa Europa se pensiamo a Orban l'attuale presidente ungherese ma il dato vero uno degli altri dati era che il fondatore del partito fascista che era Benito Mussolini guarda caso lui era Emiliano Romagnolo lui era socialista lui fu anche direttore del maggior giornale che si chiamava Lavanti del partito socialista italiano poi lui si spostò completamente fece un'alleanza diciamo così con il mondo degli agrari il mondo industriale e lì nacque questo nucleo questo partito fascista dove vi fu una grande responsabilità da parte del re allora perché l'Italia era una monarchia dove lasciò che il partito fascista presi il potere e poi a sua volta fece l'alleanza con i nazisti con Hitler durante la seconda guerra mondiale questi sono i fatti veri della storia dove queste squadre fasciste dove arrivarono con il loro movimento che all'inizio era anche un movimento che diciamo così sorgeva dal basso che ha coinvolto intere strati della popolazione italiana poi dopo si è trasformato in maniera differente e il primo punto della realtà di questo partito fascista fu con l'omicidio del deputato Giacomo Matteotti e qui ci fu appunto una sollevazione di quello che era diciamo così la gente cominciò a capire cosa voleva dire fascismo qual era il peso che questo partito ma non solo nella conduzione di tutto quanto lo stato italiano stava succedendo e poi ripeto nelle entrate in guerra a fianco di Hitler sì perché vediamo il colore avevano somiglianze sono rosse il partito fascista nazista e molti io non capisco non ho capito bene cos'era il fascismo esattamente se era un movimento di destra di destra qualcuno ma alcuni pensano che era un movimento di sinistra perché stato grande stato grande niente fuori dell'istato legge regolazione stato grande stato che regula tutto che è diverso di un stato liberale da possiamo parlare di l'inglaterra di 1940 40 45 non è che era un stato liberale non voleva stato era quella idea di stato minimo il fascismo e il comunismo avevano un denominatore comune che è stato grande uno che è totalmente stato come il comunismo ma il fascismo di Mussolini parlava molto di stato grande come si può spiegare questo a un brasiliano ma vedi paolo noi stiamo parlando 1920 1940 il ventennio come è stato chiamato del fascismo ricordiamoci che l'italia come altri paesi di europa vennero fuori dalla fine della prima guerra mondiale pertanto c'era una situazione anche di grande povertà c'è una situazione di sottosviluppo sociale e lì il fascismo prese forza prese corpo non nascondiamoci di questo e tanto è che anche tutta una serie di forze che tu hai richiamato liberali si avvicinarono al fascismo e diedero appoggio al fascismo e solo nella seconda fase scoprirono la realtà di questa di questa dittatura perché comunque era un elemento dittatura perché comunque le sfilate la scuola tutto quanto ricordiamoci queste squadracce fasciste che giravano per strada uccidevano la gente o tu la pensi come me dall'altro lato quando tu dici comunismo ci ritroviamo a rivoluzione di ottobre ci ritroviamo diciamo così il periodo di lenin che fu un movimento diciamo chiamiamolo così di passami questo termine di liberazione rispetto al popolo oppresso poi dopo questo fu una prima parte poi dopo purtroppo sappiamo benissimo quelli che sono stati gli elementi criminali di stalin perché questo fu l'elemento estremamente negativo non si può non nascondere ma questo lo dico per la mia idea diciamo così di essere stato dirigente del partito comunista di essere stato sempre un uomo diciamo così di sinistra ma nella nostra regione nell'emilia romagna in bologna noi abbiamo fondato un nuovo tipo di società civile che era una società riformista una società che è venuto avanti in un connubio sociale fra il mondo dell'impresa e il mondo del lavoro questo è uno degli elementi che hanno trasformato diciamo così Bologna ma la stessa regione Emilia Romagna in un qualcosa di diverso dove qui sono nate anche qui le prime cooperative un mondo del lavoro per le sue tutti gli anni anche per dirti negli anni famosi delle brigate a rosse hai capito dove qui quando uno degli altri elementi molto interessante dell'Italia che tutti sanno è la presenza del Vaticano la presenza del Vaticano che a sua volta aveva generato un rapporto di tipo sociale politico con il partito della democrazia cristiana che era il partito diciamo così che è stato di governo e quando due grandi statisti italiani Aldo Moro che era il capo della democrazia cristiana e Enrico Berlinguer che era il segretario del partito comunista allora si misero insieme per lo sviluppo dell'Italia per far sì che l'Italia superasse momenti di crisi capendo che era l'unità delle due maggiori forze c'erano poi anche il partito socialista non dimentichiamoci partito repubblicano il partito social democratico un attimino un po' più piccolo il partito cioè forze democratiche che si uniscono per far sì che cosa per dare uno sviluppo migliore all'intera società non più divisi in classi ma la società unica italiana che si doveva sviluppare e lì Aldo Moro fu rapito da queste che si chiamarono Brigate Rosse dove avevano delle ispirazioni comuniste ma non avevano secondo me erano solamente dei delinquenti dei banditi e qui ci ricordiamo di questo fatto molto grave e qui sai si parla di servizi segreti si parla ancora una volta di un'ingerenza della CIA americana sono tutte quante cose che si suppongono alcune verità ci sono altre forse le scopriremo o non le scopriremo mai nessuno saprà mai ma per dire dico un'Italia che voleva buttarsi nel mondo e raffigurarsi in maniera democratica nuova facendo che cosa coniugando questi due grandi pensieri il pensiero cattolico e il pensiero socialista è questo qui che è il punto grande di forza che è venuto fuori e si è sviluppato sia a Bologna che nella regione Emilia Romagna ma che prese pian piano corpo in tutta Italia sembra un scherzo ma non è difficile per un brasiliano riconoscere l'alma di un italiano in un italiano riconoscere i brasiliani perché è incredibile ma non c'è quelli nipoti che sembrano più con il zio con il nono che con il padre tante volte io ho chiacchierato sopra questo sembra che i brasiliani sembrano più con gli italiani che con i portughesi non lo so perché ma abbiamo questo riconoscimento d'alma questo riconoscimento culturale abbiamo tanti per conversare e chiacchierare qui questo assunto è ottimo ma voglio approfittare vostra presenza qui come è vestri vivere a Recife ci sono tanti italiani qui sono pochi ma tu devi conoscere quasi tutti gli che abitano qui come è vivere a Recife l'italiano a Recife ma diciamo che non ci conosciamo tutti no? perché ci sono ci saranno vari motivi adesso francamente non lo so però l'italiano ha una grande caratteristica quando si incontra all'estero io viaggio da qua sono 15 anni che sono qui a Recife che sono in Brasile in pianta stabile quindi abito definitivamente qua in Brasile ma ho sempre girato molto ho sempre viaggiato molto perché mi piaceva sempre viaggiare laddove si incontravano gli italiani in qualsiasi parte del mondo forse gli Stati Uniti o i paesi dell'est Europa che conosco molto bene nasceva subito una fratellanza quindi ecco questa è una caratteristica degli italiani riguardo la consistenza degli italiani in Brasile secondo me hanno molte cose in comune lo sport la musica l'amore per la danza l'amore per la libertà anche perché comunque il brasiliano è un popolo che si sente libero così come libero e creativo esattamente come l'italiano l'italiano è molto creativo e quindi ci sono molte cose in comune poi non dimentichiamo che il Brasile ospita la cioè una grandissima quantità di emigrati italiani 35 milioni 35 milioni credo che sia la comunità più grande soprattutto nel sud io ho avuto modo prima di venire ad abitare a Recife di abitare un po' nel sud quindi sono stato a Curitiba a San Paolo Giuliai era difficile non incontrare un italiano per strada cioè proprio ci si incontrava ma sono in Brasile o sono in Italia o no perché ci si incontrava con una facilità enorme tanto che Curitiba c'è una zona che se ricordo bene Santa Felicitate mi sembra che sia qualcosa del genere dove c'è la più grande comunità di italiani e ci sono i negozi sembra di stare in Italia questo è in Brasile questo perché? perché credo subito dopo la prima guerra mondiale ci fu una forte massa di espatriati dall'Italia proprio per i motivi che diceva giustamente Giorgio la miseria la necessità insomma di nuove di nuove di incontrare nuove realtà e niente credo che insomma sia sia questo qui adesso a Recife francamente so che ci sono molti italiani quando ci incontriamo è come è come incontrare un un parente in Italia proprio c'è proprio quel è bene ma l'italiano ha questa creatività qui a Recife abbiamo alcuni alternatori il consulato il comitè la Camera di Commercio Brasil-Italia che io devo in futuro voglio partecipare scusi per favore voi che stavate io volevo qualcuno perché era di tutti i giorni faceva tempo che non parlava niente ti difendi bene e abbiamo alcuni agglutinatori qui a Recife che offriscono questa opportunità gli italiani si trovare si si ma questo questo mese è molto importante perché da giovedì sera inauguriamo presso la fondazione di Don Michele Perrone in Piedade si dove noi diamo assistenza a oltre 500 bambini handicapati la settimana del cinema italiano successivamente dal 20 di novembre facciamo la settimana della cucina italiana nel mondo anche qui a Recife lo facciamo anche in Fortaleza lo facciamo anche in San Luis in Salvador per dire noi attiviamo alcuni punti di riferimento di collegamento per far comprendere diciamo così la nostra cultura il nostro sapere e anche i nostri sapori perché non possiamo dimenticarsi che quando si parla di taglia si parla di cucina si parla di vino si parla di una gastronomia l'esempio stesso di Bologna tutti quanti sanno tagliatelle lasagne tortellini sono nati lì in questa in questa in questa città che è appunto la patria della massa come vengono chiamate qui e anche qui molte volte è molto bello spiegare alcuna differenza maccheroni quando io vedo spaghetti no questo è spaghetto maccheroni è quel tipo di pasta molto più corto e lì si inizia ha detto molto bello parlare qui e intendersi no c'è un grande senso Paolo di comunità devo dire che di fratellanza fra io vedo non lo so molte volte mi capita di essere anche in alcuni momenti con altre rappresentanze diciamo così istituzionali di altri paesi consolari e così via quanto sentono che tu sei italiano non lo so non credo che sia io personalmente ma vedo che c'è un approccio di interesse molto grande verso l'Italia e questo è una cosa che a me logicamente mi dà molto orgoglio volevo dirti una cosa che mi sono dimenticato oltretutto a Bologna esiste Fibra è la fondazione Italia Brasile fatto fra l'ambasciata brasiliana a Roma e l'università l'Alba Mater di Bologna dove tutti gli anni centinaia di studenti brasiliani transitano e vengono non solo all'università di Bologna ma anche Padova Macerata altre realtà a studiare e diciamo così in questo interscambio che noi chiamiamo Erasmo e che qui è visto come lo studio all'estero una cosa bellissima per il futuro di tutte le nostre due realtà io sono stato già a Bologna mi è piaciuto molto sono perché la mia storia con la cittadinanza italiana storia non è stata facile perché la legislazione dell'Italia è non lascia calma come tante volte il pensiero è più rapido che le mie parole sei bravissimo Paolo ma la mia cittadinanza è stata giudiciale perché perché la mia mamma è nata in agosto del 1945 la mia nonna ha ottenuto la cittadinanza di loro padre ma il padre passava dalla cittadinanza per un figlio un uomo la donna riceveva la cittadinanza ma non poteva passare così la mia nonna ha ricevuto il loro padre ma non poteva passare la mia mamma va bene in 1948 con la costituzione italiana di 1948 le donne potevano trasmittere passare la cittadinanza la mia zia per esempio è nata nel 1951 così la mia zia ha ottenuto la cittadinanza in via amministrativa in consulato senza maggiori sforzi e io sono stato è stato necessario mettere un processo giudiciale per ottenere ho contrattato un avvocato in Bologna molto famoso lui è stato ho conosciuto il loro ufficio salvo il via dei angeli conosci via dei angeli sono stato in via dei angeli e poi quattro anni ho riuscito la cittadinanza perché non voglio andare cambiarmi a Italia ma io vado io voglio fare radice ma questo ma di fatti questo è un bravissimo Paolo questo è uno dei punti molto importanti che noi stiamo vedendo quando io dico noi parlo non solo di una rappresentanza politica di cui io faccio parte che tutto il mondo lo sa del partito democratico e sento il riferimento qui per il nostro nord-este ma anche rispetto anche agli altri partiti tutti quanti stiamo lottando per fare intendere che il problema dello ius sanguinis è un diritto un diritto dovere che noi dobbiamo dare a tutti quanti i nostri discendenti e per questo abbiamo sviluppato un programma molto interessante che è quello legato alle radici a un turismo di riporto per andare a riscoprire alcune realtà specialmente del mezzogiorno d'Italia perché la maggior parte specialmente della prima ondata di immigrazione era molto diciamo così rispetto il sud Italia poi ce n'era un'altra parte che era sul versante diciamo così Veneto Trentino cioè abbiamo avuto queste due realtà molto presenti di fatti come richiamava prima Duccio una presenza specialmente nel sud del Brasile qui abbiamo comunità Trentina comunità Veneta dove oltretutto c'è un'esperienza molto grande legato a due settori fondamentali che sono il vino e il settore dei mobili e lì abbiamo queste nostre comunità molto molto ma molto interessante qui purtroppo a Rissife si è perso molto hai capito fra prima seconda qui siamo già a dei livelli di quarta e quinta generazione e non ci sono comunità forti dove la tradizione per dire la festa in alcune realtà nostre del Brasile si fa la festa della polenta le musiche di tradizione popolare folkloristica purtroppo qui a Rissife siamo un po' deboli la verità vera è questa con qualcuno lavoro cambieremo questo perché così uno conosce altro io ho conosciuto la storia del mio Dante causa lui è a Rissife 1875 del sud dell'Italia di una piccola città che si chiama San Giovanni a Piro sono stato a San Giovanni a Piro poi ho conosciuto alcune famiglie italiane che abitano qui a Rissife tutto del sud dell'Italia io ho visto ho fatto le peschise e ho visto che sono tutto della stessa regione Basilicata Campania Calabria Calabria questi sono diciamo così c'è alcuni siciliani una presenza che abbiamo anche qui di siciliani sì io ho un cliente sono avvocato perché non sa ma io sono avvocato un altro giorno ho ricevuto una visita di un cliente della Sicilia e lui aveva un problema in Italia che era un problema d'eranza lui aveva un problema ma perché tu non tu hai i soldi tu hai immobili in Sicilia sì sì ma se tu richiedi i tuoi diritti in Sicilia ti uccidono ma come sì ti uccidono ti ammazzano io ho ricordato che in Brasile la giustizia sempre non ha funzionato bene perché perché le persone sempre beh anche in Italia i processi purtroppo sono lunghi forse non come in Brasile ma anche in Italia ci sono grandi difficoltà un processo civile può durare 6-7 anni è una vergogna Aghito speriamo che il governo attuale i futuri non lo so insomma si va a modificare perché veramente queste situazioni però vedi anche quando io sento Paolo questa cosa qui che tu per attivare il tuo diritto rischi di morire che ti sparano insomma è ancora un po' diciamo così non siamo più ai tempi di Corleone insomma è del padrino certo c'è stata mafia alcune alcuni appendici ci sono ancora inutile che ce lo nascondiamo anche in altre regioni ci sono ancora elementi malabitosi ma perché non dire che anche qui in Brasile ma in tutto il mondo per dire dalla jacuzzi giapponese al PSS qui insomma però ecco attenzione che anche molte volte alcuni fatti familiari personali non vanno trasformati in un qualcosa di generalizzato per tutti sì sì è che io ho ricordato che qui oggi stesso ma in passato con Lampiao con i banditismi qui perché le persone non potevano contare con il Stato se tu hai un problema tu devi risolvere il tuo problema tu stesso perché i giudici non vanno a risolvere il tuo problema e così in nord-est in Brasile tutto ma in nord-est di forma clara è stato così in passato bisognava fare il tuo proprie giustizie perché se ammazzavano il tuo padre il Stato non faceva di fatto niente io pensavo che questa era una realtà molto brasiliana quando ho scoperto che succedeva questo di forma forte nella fine dell'ottocento primi del novecento quindi anche un po' prima della prima guerra mondiale c'è stato il fenomeno del banditismo si principalmente nel sud era un derivato dalla era derivato dalla povertà dalla miseria da da persone che non avevano la possibilità di essere tutelati da una legge da un sistema non dimentichiamo che l'Italia si è formata ancora oggi è un po' divisa se vogliamo tra nord e sud ma si è formata molto lentamente nel tempo cioè non è uno Stato che è nato così e poi piano piano questa forma di banditismo è diventata mafia è diventata andrangheta è diventata ha preso diciamo delle radici se ne parla perché la Sicilia porta purtroppo questo nome della mafia ma è un fenomeno localizzato io conosco molto bene la Sicilia conosco molto bene il sud perché ho vissuto io sono di Roma la mia città nativa è Roma ma ho vissuto nel sud per motivi di lavoro per varie circostanze e francamente io adoro ho molti amici siciliani molti amici calabresi ho vissuto in una piccola una piccola in una cittadina calabrese chiamata Vibo Valencia molto conosciuta turisticamente nella costa Amalfitana no più a sud tropea da quelle parti Vibo Valencia tropea pizzo è una zona meravigliosa con un mare veramente incantevole e c'è gente meravigliosa certo c'è anche la rega di linguezza come giustamente diceva Giorgio lì non c'è mafe si chiama Andrangheta Andrangheta lì si sono diversi fenomeni esattamente diversi fenomeni qui a secondo della regione questo tipo diciamo così esatto malevitoso si chiami ecco Camorra diciamo così in campagna Andrangheta per quanto riguarda la Calabria mafia e c'era la Sacra Corona Unita in Puglia che poi è stata debellata ecco ci sono più fenomeni quindi è stata o assorbita probabilmente comunque il problema vero è quello che tu hai sollevato della giustizia vero? sì della giustizia che purtroppo non funziona non funziona come vogliamo noi esattamente nella velocità con quella esatta giustizia capisco bene e anche in Italia purtroppo anche ultimamente proprio nell'ultimo anno è venuto fuori uno scandalo molto forte che ha coinvolto addirittura giudici della Corte Costituzionale il dottor Palamara e altri dove anche lì si decidevano chi doveva prendere quel posto quella responsabilità allora quando tu pensi dico questi qui che sono persone che dovrebbero giudicare imparziali come dice la bilancia ma guarda se tu vogli vedere il Brasile adesso basta tu guardare l'Italia 30 anni fa le operazioni manipolite la stessa cosa del Brasile 30 anni fa la stessa cosa e come sta l'Italia oggi l'Italia quello che io ho ascoltato ha evoluito ma tanto così le stesse cose con miglioramenti e penso che il Brasile sarà la stessa cosa basta tu vedere l'Italia 30 anni fa come il tuo pensamento no ma difatti il periodo di manipolite è stato un periodo che ha messo in luce diciamo così quello che tutti sapevano quello che tutti sapevano che comunque la politica per vivere ha bisogno di soldi so una cosa che qui in Brasile chi non lo sa noi abbiamo avuto un'operazione manipolita che qui il nome è lavaggiato se tu vuoi sapere può continuare solo perché qui sta vedendo sapere che è stato la stessa da un lato c'è una somiglianza dall'altro io credo questo è il mio parere personale che quantomeno manipolite in Italia non ha distrutto parte dell'economia come io credo che invece l'abbaggiato abbia fatto sì perché quello che io personalmente condanno di lavaggiato che ripeto fu una cosa giusta corretta che venisse fuori che già seguivo un processo che era quello del mensalano altre altre situazioni dove sono stati comunque coinvolti tutti i partiti politici tutti non è inutile poi dopo può esserci quello di più o di meno ma la cosa che io contesto qua che non è successo in Italia in Italia con mani pulite diciamo così si è messo da parte i partiti politici più forti che erano in quel momento la democrazia cristiana e il partito socialista lo stesso partito comunista che riceveva finanziamenti da Mosca ancora dalla Russia perché c'erano questi tipi di rapporti di legami che venivano dal passato non hanno intaccato per nulla la parte produttiva del paese cosa che invece l'ha vagiato qui ha distrutto un'impresa come Odebrex o d'altre allora ci sono delle responsabilità che sono personali benissimo condagliamole facciamo giustizia in tutto e per tutto ma quando io penso che non sono io che lo dico ma notizie di stampa che nessuno ha mai contraddetto che si è perso oltre 4 milioni di lavoratori hai capito con il sistema lavagiato ma oltretutto si è distrutto un'impresa conosciuta in tutto il mondo è rispettata ma chi erano i proprietari gli Odebrex se tu mantieni questa imprese stesso che sia lui sia sia in prisione lui continuerà guadagnando i soldi di questa lui la famiglia guadagnarà i soldi di questa imprese per questo io penso che queste imprese familiari devono essere ammazzate perché non è possibile tu mantieni questa imprese con gli altri soci ma con i proprietari che hanno rubato guadagnando i dividendi e l'Odebrex che è una grande è stata una grande impresa ancora è una grande impresa in Brasile ma lei è sostituita altre imprese nuove hanno cominciato hanno fatto gli stessi lavori ma non non avevano i proprietari che hanno rubato penso che questo uno in capitalismo uno sostitui l'altro senza i lavoratori cambiano di questa grande impresa per questa le opere pubbliche vanno continuare con altri ma vedi il problema è l'effetto negativo della politica l'esempio ce l'abbiamo qui in Pernambuco quando c'è stata la gara per fare queste quattro corvette oltretutto è venuta qui a Recife l'ex ministra della difesa italiana per sostenere questa gara perché era che si poteva fare qui con il nostro stagliero sì bene è andata a vincere un'impresa legata alla Germania dove in un cantiere diciamo così del centro-sud del Brasile non avevano neanche le strutture io qui da un lato ti dico sinceramente lamento questo è il mio parere poi dopo sbaglierò ma me ne assumo tutte le responsabilità che il governo qui del Pernambuco non ha fatto fino in fondo quello che poteva fare dal punto di vista della pressione della protesta e quant'altro per noi perdere un'attività come quella dell'estagliero è stato un fatto molto grave e ancora una volta giustamente come dicevi tu la politica ha giocato una volta in favore di uno una volta in favore di altro ma non in favore della professionalità della competenza del merito perché è questo che noi dobbiamo pensare ecco perché ti dico Odebrecht per me era una delle più grandi aziende ingegneristiche del mondo qui c'è un elemento professionale fortissimo e noi purtroppo l'abbiamo disperso io mi auguro che vada recuperato ma d'altronde quando si è nell'ambito di un'attività liberale anche qui io credo che noi dovremmo capire che quando uno dice capitalismo attenzione come non è tutto uguale non è assolutamente tutto uguale c'è un mondo dell'impresa qui imprenditori molto validi imprenditori che danno lavoro a milioni di lavoratori che poi dopo tu dalla tua parte li difendi gli assisti per tante per il tuo lavoro professionale ma ci sono qui non si può danneggiare sempre la classe imprenditoriale questo è è un errore grave è un perdite quando io vedo alcune frange di alcuni partiti politici qua che sono contro al mondo dell'impresa ma chi è che dà lavoro se non l'impresario poi andiamo a vedere andiamo a vedere certo non tutti sono uguali non tutti a molti è logico che abbiamo fatto dei passi avanti sono arrabbiati con qualcuno che fa un negozio è una mentalità se tu fai un negozio è perché tu stai guadagnando con i lavori di altri e così tu sei colpevole sempre perché perché tu sai è una mentalità che io vedo moltissimo ma tu stesso tu stesso sei imprenditore sì tu stesso sei imprenditore perché tu dai lavoro quando hai 30 dipendenti eh meso o meno 30 persone che lavorano per te che sono quelli che poi dopo aiutano a diciamo così a creare il tuo fatturato al tuo ma sono 30 persone che a sua volta con il tuo salario e con il e con il loro lavoro vanno fuori comperono danno fanno girare l'economia ecco perché noi uno dei punti forti che dobbiamo risolvere qui in Brasile per la mia esperienza di questi 14 e ormai 15 anni bisogna che creiamo lavoro e lavoro di qualità con scuole di qualità sì perché ti dico sinceramente anche qui vedi una differenza fra l'Italia e qua in Italia il 98% dell'università è pubblica il 2% è private ma quelle due private sono di eccellenza se pensiamo alla Ruiz se pensiamo alla Bocconi di Milano cioè anche qui mi verrebbe quasi da dire è gente che paga per prendersi una laurea sì qui qui in Brasile io stavo pensando un altro giorno sopra questo tu bisogna essere avere un titolo di università per fare una validazione sociale noi non abbiamo di tanti sono dieci professioni più o meno medici avvocati direttori medicina veterinaria sono dieci tu mettono gente molta gente fa corsi particolari pubbliche ma chi deve essere stimolato io penso dovrebbe essere l'imprenditorismo perché adesso per esempio qui abbiamo sugar canna di açúcar scusi gente per favore è molta velocità le parole non corrispondono ma tu devi fare una cultura di esportazione sempre i paesi che hanno disinvolvimento hanno fatto cotton per esempio qui a Pernambuco 50 anni fa abbiamo molto cotton adesso no ma in quell'epoca il piccolo agricoltore plantava era un sistema che molti non considerano giusto perché lo implantava il proprietario della terra rimaneva con 50% lui con 50% ma lui non aveva niente 50% va bene oggi vediamo molta gente ricevendo un aiuto assistenziale del governo ma non si pensa bene io guadagnavo 600 ma potevo guadagnare 6.000 se io facevo una cultura generale di esportazione esportare per l'Italia per il mondo per Cina guadagniamo soldi certo ma vedi oltretutto questo è un lavoro che io faccio come advisor anch'io come esporto commodity nel mio lavoro però il problema è vero è la trasformazione del prodotto perché dobbiamo solo esportare questo prodotto invece che non creare industrie di trasformazione per anche qui quando tu pensi ti do un dato noi nel nostro agrest del Pernambuco è un grosso produttore di ovine caprino però noi lo importiamo importiamo da Uruguay perché non è sufficiente allora perché non creiamo una filiera produttiva di questo abbiamo situazioni noi abbiamo chilometri non migliaia di ettari incolti il Brasile è il paese dove ha più terra incolta del mondo perché sai qui la gente guarda dal Brasile da questo lato solo sul versante Amazonia anzi che è fondamentale bisogna salvarla bisogna porre tutta l'attenzione di questo mondo di come non è stato fatto fino ad ora però abbiamo altri terreni altre realtà io penso qui al nostro Pernambuco ma al nostro nord-est dove noi possiamo creare industrie specialmente nel settore alimentare di trasformazione dando lavoro e a questo punto esportando il prodotto finito questo è il punto grande Paolo parlando sopra esportazione tre o quattro anni fa prima di questa pandemia io sono stato a Cina con un'impresa che si chiama Startse quello fa quello che pensiamo sopra sopra l'istituzione di camera culturale lui prendeva imprenditori dal Brasile e presentava questi imprenditori per le imprese cinese solo questo io ho pagato un sacco di soldi in epoca solo per questo io non conoscevo le imprese l'imprenditore cinese io volevo conoscere la cultura la forma di fare negozi di business e loro facevano solo questo Startse chi vuole fare una missione negoziale a Cina io ho pagato tanti hanno pagato e lui prendeva questo gruppo e presentava per gli imprenditori cinese perché no qui a Pernambuco facciamo la stessa cosa prendere gli imprenditori italiani per presentare queste aziende inagresse che tu vuole fare questo intercambio di portare qui allora qui una cosa che io ho oltretutto anche discusso con una bravissima giornalista qui nostra che è di Pernambuco che è della SBC che è Patrice Araposo abbiamo il centro di convenzione questo centro di convenzione che finalmente ma guarda caso abbiamo dati in gestione credo per 35 anni a un'impresa du Minas Gerais bene per quale motivo per dire noi questo centro di convenzione dove facciamo delle fiere ma rispetto alla concessione io non voglio offendere nessuno per l'amore del cielo ma se noi guardiamo la fiera del settore medico hospital che si fa a Bologna e medica med che si fa qui a Recife siamo a distanza quando io sono stato a Bologna ma perché non cerchiamo di interagire con loro perché non cerchiamo di vedere ma io dico con questa ma per dire con la Cosmo Prof con Neima per dire a Rimini dove io siamo riusciti qui col governo quattro anni fa a mandare una piccola delegazione a McFruit la più grande fiera europea del settore della frutta e verdura cioè quello che manca qua è una politica secondo me commerciale come giustamente dicevi tu prima mi allargo fuori al mondo qui abbiamo una struttura che era di Dipera adesso si chiama Depe bravi ma secondo me è molto ristretta sul territorio brasiliano è molto ristretta nel sviluppare con imprese brasiliane se noi vogliamo dare veramente novità specialmente nella crescita mondiale nella crescita mondiale di tecnologia di sapere di inter dobbiamo andare fuori vedi Hannover Germania la più grande fiera della deontologia è mai possibile che con loro non riusciamo per dire anche qui noi Pernambuco stiamo perdendo molto rispetto a Bahia e rispetto a Seara e qui avevamo un potenziale nel periodo negli anni di Edoardo Campos noi ce lo ricordiamo addirittura il Pernambuco superava di un 2% il livello di PIB nazionale del Brasile non possiamo sempre dare però la colpa alla pandemia vediamo anche qui allora anche qui un elemento quello che ti dicevo prima di come è nata la storia e della crescita dello sviluppo socio-economico di Bologna in un rapporto anche qui nuovo fra mondo dell'imprenditoria e mondo politico questo cioè noi abbiamo qui abbiamo interi territori che ancora siamo indietro molti indietro c'è gente quando noi parliamo di favela ma perché devono esistere ancora queste realtà così che sono veramente sono inconcepibili per noi sono inconcepibili allora il mondo dell'impresa il mondo politico il mondo del lavoro si debbano unire devono cercare perché qui c'è un potenziale grandissimo bravo qui c'è un potenziale grandissimo Paolo che dobbiamo mettere io lo vedo per dire tu parlavi di zucchero quanti quante realtà abbiamo chiuso qui in Pernambuco per quale motivo perché sappiamo benissimo che il terreno qua è nostro quindi alla Goa qui vicino ha una realtà territoriale completamente diversa purtroppo non si può competere però nell'ambito della trasformazione del prodotto qui noi possiamo fare delle gran belle cose abbiamo tutta la realtà di petrolina per dire tutta la frutta come è possibile perché non conosce il Brasile noi abbiamo qui a Norris una regione che non piove ma questa terra servono per esempio per plantare tamara tamara ma perché non abbiamo uno piede di tamara qui molta terra ma nessuno vuole prima le persone non sappiano cosa esportare qui sono solo due o tre grandi imprese di zucchero per esempio ma noi abbiamo una cultura di esportazione ma abbiamo terra abbiamo le condizioni climatiche abbiamo gente abbiamo tutto ma avevamo questo spirito di esportazione potevamo produrre molte cose di regioni semidesertiche ma manca io penso questa cultura tra i poveri persone povere perché devono essere stimolati con il tempo imparare come esportare come guadagnare dollari del mondo perché la Cina ha imparato l'India ha imparato sta imparando perché noi non vedete ad esempio qui abbiamo la fortuna di avere il consolato cinese del nord est con una console veramente ho conosciuto molto buona gente ho conosciuto molto simpatica certo molto forte anche qui lì c'è un mondo ma non solo ma tornando all'Italia ma è mai possibile che ad esempio non si riesca a fare adesso mi dicono che forse si riesce da qui alla fine dell'anno a fare un gemellaggio fra Recife e Venezia io non lo so è vero non è vero si parla già noi facemmo una cosa dal punto di vista culinario con Senacchi alcuni anni fa benissimo ma però mi interessa sempre la parte imprenditoriale per dire traffico noi abbiamo i canali cioè Recife è la Venezia del Sud America perché ad esempio noi vediamo qual è uno dei problemi grossi della visibilità ambientale di tutto è il traffico di Recife è mai possibile che con i canali che noi abbiamo non possiamo mettere su un sistema di trasporto fluviale tipo come quella di Venezia cosa stiamo ad aspettare per fare questo cioè guardiamo fuori prendiamo le esperienze che ci sono fuori per dire quando prima si parlava di di fiera del settore del settore medico Recife secondo polo medico del Brasile è mai possibile che noi non ci possiamo legare con alcune realtà specifiche italiane io credo di sì ma dove sta c'è una volontà politica c'è una volontà imprenditoriale perché si fosse a far questo e sono domande che io mi faccio chi stiamo aspettando è sempre che ci arrivi la benedizione dal governo federale io credo che ci sono delle cose che si possono fare anche qui in casa nostra perché oggi Pernambuco Recife è mia casa mia casa è mia vita insomma non conosco ancora la camera di commercio Brasile Italia ascolto parlare di voi ma non la conosco ma noi per cinque anni abbiamo lavorato molto bene poi con la crisi non solo economica ma anche qui crisi anche in parte politica cioè per dire quando un imprenditore italiano viene qua Paolo vede ICMS PIS COFIN problemi traballistiche più grandi che il resto del mondo sapete molte persone che avevano una mentalità litigiosa tutto voglia mettere in giustizia per guadagnare i soldi io sono avvocato ma tu quanti di persone io ho passato qualcosa come io voglio io voglio una indenizzazione ma è una mentalità così vedi queste cose qui qui un contador quello che noi possiamo chiamare ragioniere o commercialista in Italia ti fa un'impresa da noi un ragioniere un contador ti fa dieci imprese perché oggi è tutto quanto informatizzato la foglia questo per l'amor di Dio insomma sburocratizzare non la voglio mettere non la voglio mettere in politica ma il mondo dell'impresa si aspettava da Bolsonaro queste due riforme della IVA imposte sul valore aggregato sburocratizzare erano queste le due cose che il mondo imprenditoriale si aspettava non sono state fatte in quattro anni e questo qui sono fondamentali io ho perso due imprese una da 140 persone e una da 50 sono venuti qui tre volte uno tre volte l'altro ha detto che dopo la seconda ne aveva era convinto di non venire più la terza in Brasile perché? perché quando ha visto il sistema burocratico nonostante che devo dire il governo locale dava aiuto c'era stato delle aperture delle disponibilità però poi alla fine si guarda il quadro generale e l'altra cosa molto importante la formazione questo è uno degli altri punti molto ma molto importante la formazione dei lavoratori la formazione e la mentalità culturale di lavorare che qui io sto vendo questa disposizione di molta gente che non vuole lavorare ricevere i benefici ma non lavorare mi muore una zia mi sta a casa tre giorni per l'amor di Dio da noi sarebbe inconcepibile sì è vero ma rimane la suggestione della camera penso che la camera sarà un grande strumento in futuro solo per presentare nostri imprenditori italiani e presentare Brasile nostre grandi imprese nostre grandi possibilità di economia per l'italiano facendo questo io penso che sarà quello che il massimo che possiamo fare di una camera di no ma noi noi siamo noi possiamo fare sai noi possiamo fare delle gran belle cose io credo che con pazienza con molta calma perché ma si possono fare veramente noi abbiamo per dirti quando prima si parlava che la maggior parte dell'immigrazione erano di queste quattro regioni del sud Italia che per chi non lo sa è l'inverso qui la zona più sviluppata del Brasil è il sud da noi invece è il nord Italia perché ad esempio con la Basilicata la Puglia la Campania la Sicilia la Calabria cioè lì c'è un potenziale molto grande perché non cerchiamo anche lì di creare dei rapporti fra di noi sia di caratteri istituzionali che imprenditoriali perché è istituzionale la lingua la cultura la musica le tradizioni la cucina e dietro tutto questo ci sta il mondo dell'impresa dietro a tutto questo ci sta il mondo di lavoro per tutti quanti noi questo è molto è molto importante si è questo che non e lì si crea a sua volta la volontà di ricerca di capire la volontà di crescere anche si è vero perché io ti dico sinceramente quando io vedo che specialmente anche qui nel mondo universitario professori che se tu vai fuori di un millimetro di quello che stanno insegnando da vent'anni sono persi sì allora qual è la qualità di insegnamento che possono dare a un giovane che deve entrare oggi nel mercato del lavoro dove sappiamo che qui con le nuove tecnologie il nuovo livello di informatizzazione in un minuto il reverso tutto quello il digitale che sta venendo avanti anche qui oltretutto abbiamo l'esempio che abbiamo la miglior fabbrica al mondo della Fiat che è stato fatto lì a Goiana che fu una delle ultime cose che fece Edoardo Campos con Lula per dire questa cosa è qui la fabbrica di auto maggiormente automatizzata al mondo allora vuol dire che qui c'è della volontà c'è del know-how c'è dello spirito imprenditoriale con per dire all'inizio c'era un 20% di personale italiano oggi ce n'è un 2% perché perché è venuto avanti una crescita noi dobbiamo far crescere la cultura e la professionalità del popolo brasiliano con l'esperienza che una volta la prendiamo dall'Italia una volta la prendiamo dalla Germania o la prendiamo anche dagli Stati Uniti il Brasile ha un potenziale unico e secondo me non lo capisce lo capisce ma non lo capisce fino in fondo 60 giorni fa io sono stato in Nepali e ho visitato una una loggia della Fiat io ho visto il carro che si produce a Pernambuco io ho fatto un video un piccolo video ma sono stato molto orgoglio di vedere un carro che è fatto qui attraversare il mondo per arrivare in Nepali per finire nostra nostra conversa questa chiacchierazione due cose chi volere aspetta volevo dirti una cosa dato che tu hai parlato di motori volevo dirti che questa città Bologna domenica ha festeggiato che cosa con la sua Ducati la moto e con l'italiano bagnaia il campionato di mondo di Grand Prix hai capito ed è anche lì questa piccola città che crea dico la moto che vince che batte Suzuki batte Yamaha ecco perché ti dico anche nel nostro piccolo in una realtà come il nostro Brasili la nostra Recife potremmo fare tantissime cose molto belle scusami per finire che voglio ho un amico che abita il loro nome è Giuseppe Cicorella lui fa negozi immobiliari negli Stati Uniti è italiano ma penso che è del sud dell'Italia lui parla Cicorella lui parla molto sopra questa mentalità di guadagnare soldi senza avere vergogna di guadagnare soldi negli Stati Uniti perché lui parla che io pensavo che era una cosa brasiliana che molti odiano i ricchi nell'Italia ma vogliono essere ricchi e io ho pensato che questo era un pensamento brasiliano tutti vogliono essere ricchi ma tante volte odiano i ricchi e lui parla sopra questo di cambiare mentalità per essere un ricco senza vergogna senza avere mi è piaciato molto parla e lui parla mi piace chiacchierare con voi per sapere di questa mentalità perché tante volte noi pensiamo qui in Brasile che è tutto diverso dal resto del mondo e tante volte Giuseppe Cicorelli ho visto parla tanto che ha cambiato per gli Stati Uniti giustamente per guadagnare soldi perché era difficile guadagnare in Italia perché molta gente odiano i ricchi vogliono tassare mettere in posto regolazione tutto e sempre regolazione sempre obbligazione tra con i ricchi con i imprenditori e lui ha parlato molto sopra questo sopra in spirito americano ma anche Giuseppe dovrebbe sapere benissimo che in America le tasse le paghi senza problemi al cappone fu arrestato proprio perché problemi di evasione fiscale allora che poi dopo in Italia ci siano dei livelli ancora oggi molto alti di tassazione rispetto al mondo dell'impresa questo è un dato ma chiunque ma chiunque vuole guadagnare cioè anche questa frase ricco io la metterei da parte io direi dico ognuno sviluppa tutto quello che può per guadagnare per stare meglio perché la mia ricchezza io la vorrei distribuire ha fatto ricche in tuo cammino no? allora tu ricordi quello che Bertrand Brecht disse nella famosa frase di Giulio Cesare io sono Giulio Cesare perché ho i miei cuochi ho i miei staglieri ho i miei armieri cioè la mia ricchezza mi fa grande perché ho avuto ma a sua volta la mia ricchezza la voglio distribuire perché se io la distribuisco creo benessere e questo benessere mi ritorna indietro mi ritorna indietro mi fa ancora stare meglio cioè non usiamo la parola ricco in questo modo dispregiativo diciamo che cerchiamo di far aumentare lo star bene della società in cui tutto quanto e qui termino cerchiamo di eliminare le diseguaglianze questo è il punto forte ci sono troppe diseguaglianze ancora oggi nel mondo sia in Italia che in Brasile qui c'è alcune immagini camera italo-brasiliana di commesso e industria io voglio non lo so se sia la tua esatta istituzione ma voglio mostrare quale il telefono per chi telefono i salzi qualcuno in Brasile o in Italia vuole allora noi qui nel nordeste abbiamo sia la camera qui del Maragnau sì con oltretutto con un'ottima persona che è un ingegnere del settore ambientale agronomo e quant'altro Francesco Cerrato sì è aiuto veramente una persona molto valida che oltretutto è anche viceconsole e abbiamo in Fortaleza l'altra camera di commercio con l'avvocato Paolo Magnani lui oltretutto ha anche studio in in Curitiba anche lui molto molto persona molto capace la nostra purtroppo era lì ma è stata chiusa è stata chiusa a seguito della crisi oggi come oggi assunto la responsabilità la vice presidente dell'OAB che tu o tua collega tua amica che tu conosci in Grizzanella ma purtroppo ancora non è attiva per quanto riguarda la Paraiba era sempre dipendeva sempre da noi da Recife anche lì l'abbiamo chiusa cinque anni fa per quale motivo perché in definitiva nella Paraiba il gruppo economico è in Campigna Grande tu in Paraiba non è già o Pessoa non hai tu sei la seconda persona oggi che ha parlato che la Paraiba è stato più veloce più cambiamento che Pernambuco e la Paraiba per chi non conosce è stato sempre un satelite in Pernambuco ma tu oggi sei la seconda persona che ha il sviluppo tutto sta andando molto rapido a Paraiba e qui mi pare che siamo fermati è purtroppo adesso vediamo avremo un nuovo governo vedremo con Rachel Lira quello che questa nostra nuova governante cosa sarà fare sai la Paraiba Joao è stato riconfermato come governatore io lo conosco personalmente abbiamo avuto anche rapporti diretti come consolato e camere di commercio credo che sia un amministratore vedi io non lo chiamo politico io li chiamo amministratori sia un amministratore molto in gamba molto valido ha sempre avuto ecco il nostro amico Tales Castro si sto mostrando perché è un amico che esattamente che è internazionalista è insegnante di diritto è un avvocato è consul di Malta di Malta un giorno voglio invitarlo per venire qui a un podcast perché è una persona che c'è quello che dire oltretutto lui ha una visione internazionale molto forte anche al di là della sua formatura che è stata fatta diciamo così negli Stati Uniti d'America ma lui sempre farà parte proprio diciamo così della sua esperienza proprio formativa e professionale di docente universitario è un caro amico pertanto non posso che parlarne molto bene abbiamo un po' alcune idee differenti ma diciamo così ma questo è fa parte dello scambio della dialettica sociopolitica ma tutti e due siamo per costruire un Pernambuco migliore va bene Vestri per finire vuoi dire qualcosa che tu considera importante di essere parlato ma diciamo che Giorgio io l'ho ascoltato a bocca aperta perché effettivamente tutto ciò che ha detto è esattamente ciò che magari io non riesco ad esprimerlo con la stessa capacità dialettica e profonda conoscenza che lui ha ma che condivido totalmente è una delle cose che ho sempre mi hanno fatto un po' soffrire io in Italia ero un imprenditore in un determinato segmento ho avuto sempre successo alti e bassi come spesso accade purtroppo ricalcare lo stessa la stessa impronta imprenditoriale qui in Brasile mi ha creato soltanto dei danni proprio perché c'è non c'è l'incastro giusto tra il concetto innovazione modo di fare rapporto con i dipendenti ed è proprio quello magari che mi ha danneggiato un po' anzi abbastanza proprio il rapporto la fidu perché io credo che un'impresa debba essere una simbiosi tra io non sono mai stato il titolare della mia azienda sono sempre stato il responsabile colui che ha messo i soldi per crearla ha messo l'idea ma non ero il padrone i padroni eravamo tutti noi funzionari dipendenti adesso in Italia questo ha funzionato molto bene dandomi dei grandi successi ho fatto vedere una volta anche a Giorgio una lettera di di encomio da parte di una grande società americana che poi è la Apple Computer con cui ho lavorato 30 anni e riproporre lo stesso concetto di lavoro di impresa qui in Brasile mi ha danneggiato in un modo che preferisco neppure ricordare e quindi condivido totalmente in ciò che diceva Giorgio bisogna crescere crescere con una mentalità nuova io faccio molte volte mi incontro a parlare con dei giovani dico ragazzi siete voi il futuro reagite perché oggi non è più come una volta io ricordo quando ho iniziato la mia attività io mi facevo arrivare i giornali dagli Stati Uniti perché le informazioni io le dovevo prendere da giornali c'era una rivista che si chiamava Popular Computing al quale ero abbonato ma mi arrivava il mese dopo l'uscita ma già andava bene all'epoca oggi c'è internet oggi c'è una comunicazione diretta in tempo reale i giovani sanno operare con internet sanno utilizzare internet meglio di quanto lo potessi fare io che ci ho vissuto una parte della mia vita diciamo nella tecnologia perché debbono dormire debbono maschere debbono debbono coprirsi dietro problemi che magari sono inesistenti allora loro sta svegliarsi cercare di dare un input un cambiamento un forte cambiamento il Brasile secondo me e ripeto ho girato molti paesi e è il paese che offre più opportunità al mondo o meglio che ha le possibilità maggiori di qualsiasi altro paese perché ha tutto è un paese tra l'altro che ha una bassa densità di popolazione quindi significa che ci sono molti terreni ma sono tutti abbandonati sono tutti lì allora perché non fare delle strutture a Bologna ci sono delle imprese che lo conosco molto bene l'Emilia Romagna e ci sono delle cooperative ci sono dei giorni ma adesso non perché io sono italiano dico vabbè prendete per esempio ma possono informarsi vedere delle situazioni delle cooperative dei giovani che piante allora il Brasile ha tre raccolti all'anno in Italia ce n'è uno quindi qualsiasi cosa io semino io ho la possibilità di raccogliere tre volte questa è economia con lo stesso terreno quindi perché i giovani non formano delle cooperative fanno produzione agricole trasformazione del prodotto e esportano con il valore aggiunto che è quello della mano d'opera l'esportazione significa anche fare entrare del denaro fresco lo sappiamo tutti ma nessuno lo fa tutti guadagnano tutti no è perché perché c'è uno stato proprio di abbandono non c'è quell'iniziativa non c'è quella cultura ecco vabbè io forse adesso sono andato un pochino oltre ma la cosa che mi dispiace è proprio questa del Brasile perché è un cavallo da corsa meraviglioso ma senza fantino senza come io parlo di quando in quando è una macchina una macchina è un Ferrari senza pilota con ferro di mano di lato esatto perfetto per finire adesso voglio solo fare un riconoscimento pubblico questo è il tuo cittadino della tua città Luigi Paiano non lo so se tu lo conosci ma è un italiano che ha fatto la mia un avvocato italiano che ha fatto il mio processo di ottenzione ottenzione scusa per favore gli italiani che stanno ascoltando scusa le mie parole il mio vocabolario ma lui è di Bologna ho conosciuto Bologna tra lui e voglio fare questo riconoscimento pubblico perché Luigi non la faccia non allora la faccia non mi è nuova assolutamente però devo dire che il nome suo di Luigi non penso un giorno a Bologna si vuole chiacchierare con lui può dire Paolo Perazzo ha parlato bene e lavora con questa può essere anche che ci siamo che ci siamo anche incontrati abbiamo avuto occasione di comuni e come dico la faccia non mi è nuova però ecco così personalmente non e trovare qualcuno qualcuno in vita e un avvocato che sia onesto sempre tante volte io una volta ho avuto un amico che ha avuto un problema criminale lui ha detto per me prima di essere ammanetato io sono sto sendo depenato non so se questa parola in italiano ma lui reclamava molto di avvocati che volevano soldi 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 e lavoravano molto con questa questione psicologica è problema se tu voglio fare lavori soldi soldi e tu trovi sempre persone che onesti che facciano un lavoro corretto sempre questo è per questo che ho fatto questo riconoscimento io lo so che in Italia adesso ha un mercato un mercato negro di 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 questa ottenzione per ottenere una cittadinanza italiana è un problema gente di assessoria che mettono in casa che non si può fare di quella maniera chiamano la questura che non è così falsificano documenti è vero è vero è vero io ho ascoltato molto sopra ma è vero anche tutt'oggi anche per dire alcuni mesi fa è stato scoperto anche in un paese dove erano coinvolti tutti da dipendenti pubblici comunali falsificavano tutto pur di avere hai detto la possibilità questo questo non è ma sai è stato un piacere è stato un piacere facciamo nuove caccherate in futuro perché no questa è un'opportunità per caccherare per caccherare tra amici alla prossima volta però portiamo anche un buon vino italiano va bene qui ti dico io non so se tu conosci qui abbiamo Marcello Marcello è il maggior distributore di vino italiano qui a Resif non lo conosco ancora lui è di origine siciliana poi dopo ha vissuto tanti anni a Ravenna e adesso è qui lui veramente molto 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 bravo è il primo distributore di vini hai capito qui Marcello Trinacria hai capito è sempre buono conoscere eroi come questi perché non è una cosa facile essere la persona che comincia tutto sempre è una guerra ma sai che qui hai alcune presenze per dirti adesso io non è che voglio non faccio pubblicità ma parliamo di persone noi abbiamo qui Paolo che era l'ex proprietario del ristorante pastificio che oggi lui ha venduto il ristorante e ha la miglior produzione di pasta fresca e surgelata qui del nordest per dirti con lui il suo laboratorio lui e sua moglie anche sua moglie lei è nata venezuelana ma da famiglia italiana per dirti gente laboriosa gente che sabato domenica alla sera fino alle 10 in laboratorio e questi sono il cuore pulsante dell'Italia che lavora qui l'amico Giovanni Sonda da 25 anni il maggior mobiliere Don Francesco Don Francesco Aulinda sono pezzi di storia italiana nostra in questa realtà diciamo così pernambucana a Resifense va bene bene grazie di tutto per tu che rimani a casa scusi più una volta il mio vocabolario non ho vocabolario che chissà un giorno capirò tanto in italiano saperò parlare tanto bene e per i brasiliani sarà traduttito metteremo qui la traduzione perché non capisco niente metteremo la metteremo la traduzione qui e per l'italiano si può restare un gioia un like sarà sempre buono un abbraccio a tutti un abbraccio a voi grazie grazie e fino alla prossima chiacchierata ciao a tutti ciao ciao